L'ennesima giornata da incubo per i messinesi inizia con la notizia della rottura del bypass realizzato dai tecnici di Sicilia Acqua e la scorsa settimana a forza d'agro per collegare la condotta dell'Alcantara a quella del fiume Freddo. Così questa mattina nel serbatoio Montesanto non sono arrivati neanche 300 litri insufficienti ma comunque garantiti in queste ore. Amara sorpresa per i vertici dell'Amam in grande difficoltà. Messina città sfortunata e maledetta, è saltata la sala cinesca prima dell'innesto, le cause del guasto non sono del tutto chiare ma probabilmente il collegamento non ha retto all'aumento della portata che era stato concordato per provare a far arrivare un po' più di acqua in città, adesso di nuovo a secco. Sul posto subito i tecnici dell'azienda comunale di Sicilia Acqua, da Ennen arrivo il materiale per la riparazione. In giornata all'inizio dei lavori e l'ultimazione secondo le previsioni del direttore generale Luigi Larosa in serata. Messina continuerà a soffrire nelle prossime ore, anche dopo il ripristino del bypass i problemi non finiranno, il piano di distribuzione varato in questi giorni non riesce a soddisfare le esigenze della popolazione.